Sono pochi i ricercatori che possono e sanno approcciarsi al tema della magia con la dovuta serietà affinché questo non sfoci nel qualunquismo, nell'ovvio, nel ridicolo persino. In questo saggio l'autore Andrea Antonello Nacci affronta il tema della magia del caos con metodica e logica ineccepibili, approcciandosi con la dovuta freddezza di chi intende creare un'opera in grado di trasmettere sì conoscenze e sensazioni intense ma senza che la stessa sfoci nel frivolo sensazionalismo che fa tanto bene al commercio e poco all'evoluzione della coscienza umana.